Salve e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come migliorare così il ping su Fortnite nel capitolo 5, stagione 3 di Fortnite, quindi migliorare così la connessione nei server di Fortnite svuotando anche le cache del DNS. Quindi in questo caso andiamo prima ad eseguire il prompt dei comandi, quindi cmd, prompt dei comandi, esegui come amministratore, sempre come amministratore, se no non andrà nessun comando che andremo poi a inserire. Ci saranno tre passaggi in questo tutorial, quindi in questo caso come primo passaggio andremo così a inserire dei vari comandi nel prompt dei comandi, andiamo così a mettere netshwinsockreset, quindi vai a scrivere netshwinsockreset, fai invio, una volta fatto bisogna riavviare il computer, quindi chiudi un attimo qua, riavvia il tuo sistema operativo, una volta fatto ritorniamo così sul cmd e continuiamo con i passaggi, vai a scrivere ipconfig relays nel prompt, ipconfig relays nel prompt, attendiamo qualche secondo nel caricamento di alcune informazioni sulla nostra rete, una volta fatto vai a scrivere ipconfig renew nel prompt, segui ogni passaggio, segui ogni passaggio, ipconfig spazio renew nel prompt, una volta fatto passiamo direttamente a ipconfig flush dns nel prompt, e basta, una volta fatto chiudiamo un attimo qua, andiamo così a creare un nuovo documento di testo, quindi documento di testo, entriamo nel documento, eccolo qua, e il secondo passaggio è inserire questo comando, e poi dopo andremo a inserirlo nella cartella del system, nell'host della nostra cartella dei server, ed eccola qua, fai file, salva con nome, vai così a scrivere, due virgolette, host, host, la s alla fine, due virgolette, e fai salvo, una volta fatto chiudi qua, ecco il nostro host, questo qua, tasto destro sopra, rinomina, chiamolo host.hold, e fai invio, ed eccolo qua, una volta creato così questo host, questo file qua, andiamo così a inserirlo nella cartella di system32, questo pc, disco locale c, scendiamo fino a giù, fino a trovare windows, fino a trovare così la cartella system32, ora entriamo nella cartella driver, drivers, etc, ed eccoli qua, tutti gli hosts, quindi ora io vado a mettere questo qua, qua dentro, e faccio continuo, una volta fatto, chiudo un attimo qua, in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina, per scaricare così il programma DNS benchmark, ed eccolo qua il DNS benchmark, così facendo andremo ad aggiungere questi DNS sulla nostra rete, io ovviamente uso il cavo Ethernet che è meglio su Fortnite, quindi migliora così il ping e il velocizza, anche la connessione sul gioco, quindi vai a mettere Run Benchmark, ti troverà i migliori server DNS da aggiungere sulla nostra rete, mentre sta facendo il caricamento, adesso vi faccio vedere, andiamo tasto destro sopra sulla nostra rete, impostazioni, rete e internet, andiamo su impostazioni di rete avanzate, ed eccole qua le nostre reti, questo è wifi, quindi per quelli che usano la connessione wifi, è lo stesso procedimento, quindi bisogna mettere il server DNS o sulla wifi o sul cavo Ethernet, quindi io vado a metterlo sul mio Ethernet, ed eccolo qua, su Ethernet, questa è la mia rete, altre opzioni, scheda, modifica, ed eccola qua, protocollo internet versione 4 TCP IPv4, clicchiamo sopra, ed ecco, utilizza i seguenti indirizzi, server DNS, il DNS Benchmark che mi ha trovato i migliori server DNS e li ho aggiunti qua sulla rete, per non avere problemi di connessione, lag, ping molto alto che arriva fino a 500, 1000, minimo sui 4, 5 ping, massimo sui 12, 15, ovviamente come puoi vedere, questi sono la lista dei server DNS, come puoi vedere questi qua, il rosso, sono quelli veramente scadenti, che non vanno proprio, e poi ci sono questi altri qua, quelli che mi consiglia, sono quelli evidenziati, come puoi vedere, 8.8.8, 150 quelli che ho messo qua sopra, e tu inserisci, così serve DNS, e fai ok, e chiudi qua. Una volta fatto come ultimo passaggio, c'è un altro passaggio in questo tutorial, mi è venuto in mente proprio adesso, andiamo sul CMD di nuovo, esegui come amministratore, e andiamo così, a scrivere sfc spazio slash scanno, e facciamo invio, avvio in corso dell'analisi del sistema. Protezione risorse di Windows, nessuna violazione di integrità, trovate. Se avete altri problemi, potete sempre commentare sotto al video. Come ultimo consiglio che vi posso dare, è chiudere tutti i programmi in background che non usate, quindi in questo caso, se state giocando anche da sole, avete Discord aperto, chiudete, Discord, Quit Discord. Tasto destro, sopra su Start, vai direttamente su Gestione, Attività, Vai su Processi, tutti i programmi in background che stanno usando anche la rete, la RAM, il processore, Schiave, tutti questi programmi, anche l'host di l'host di servizio servono, e tutti questi programmi qua, come per esempio il mio Creative Cloud, che non mi serve, termina attività. Gaming Service, termina attività. Widget Windows, termina attività. Quindi, come ho detto, per altri problemi ancora, potete commentare sotto al video. Iscriviti, lascia like, e noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.